Passione. Passione è lavoro, costanza, entusiasmo. Passione è impegnarsi duramente per ciò che si ama. Passione è sfida. E la sfida più difficile è contro se stessi. È continuare a migliorare. Perché ogni sfida superata rende la vita migliore. La rende epica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sportiva Epic Ski Tour. Gennaio 2017. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.